...puntuali, contrariamente al solito, visto che la sala è già riempita per ascoltare il nostro ospite Stefano Biguzzi, presidente dell'Istituto Veronese per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, istituto con il quale insieme all'Università di Verona si è progettato il grande calendario degli eventi che ricordano la grande guerra. Questa sera è appunto uno degli appuntamenti nel programma generale che potete vedere sia all'ingresso, immagino l'avrete anche già appreso dai giornali e dalle locandine che si trovano in giro per la città e io vi porto anche i saluti del professor Renato Camurri che è il curatore diciamo di tutti gli incontri che si tengono qui in società letteraria assieme a noi e che questa sera non ha potuto intervenire. Io sono particolarmente felice di condividere questa sera anche appunto cogliendo l'occasione di prendere il posto del professor Camurri e di accompagnare il nostro socio e amico Stefano Biguzzi in questa sua conferenza che si prospetta molto molto nutrita e nutriente come è solito donarci. La conferenza avete visto tutti si intitola Tutti alla frontiera con la spada e con il cuore, una citazione dal suo amatissimo Cesare Battisti e sarà una delle tante citazioni che anche questa sera ascolteremo così mi ha preannunciato. Stefano Biguzzi come sapete tutti è uno storico molto affermato, il suo volume, la sua biografia su Cesare Battisti pubblicata nel 2008 da Utet rimane un'opera ineguagliabile, precedentemente nel 2004 sempre per Utet aveva pubblicato l'orchestra del Duce, Mussolini, la musica e il mito del capo ed ora sta lavorando ad un saggio che sarà pubblicato all'interno di un volume sul Mussolini giovane, sul giovane Mussolini e questo volume è curato da Emilio Gentile e da Spenso di Scala e credo che sarà di prossima pubblicazione. Tutti lo sapete ma a me piace ripeterlo perché Stefano è un po' il nostro orgoglio per tante ragioni, lui è anche un ottimo violinista, però questa sera non suonerà ma forse è come dire la sua prioritaria occupazione, suona in due importantissime ensemble cameristiche, una è interpreti veneziani a Venezia e l'altra è l'orchestra da camera di Mantova, credo sia doveroso ricordarlo perché appunto ne costituiscono la complessità dell'uomo Stefano Biguzzi che non è solo storico, non è solo presidente dell'Istituto Veronese per la storia della resistenza dell'età contemporanea. Trovate, molti di voi avranno trovato sulla sedia questo numero di Carnè Verona che ha in copertina il logo e il logotipo dell'Uni Verona Expo all'interno del quale è un grande contenitore, ci sono tante iniziative, la Grande Guerra, ovviamente Expo, alcuni cicli che faremo in società letteraria, ad esempio quello su un ponte con la Cina, sul mondo culturale cinese e molte altre cose. Io non mi dilungo oltre, prendo posto anch'io fra gli ospiti e ti ascolto con molto interesse. Grazie a tutti per essere qui così numerosi in una giornata che vi ha costretto a sfidare anche le intemperie, quindi una presenza tanto più apprezzata che mi fa ancora più piacere e grazie a Daniela Brunelli per le parole affettuose con cui mi ha presentato. Ha parlato di una relazione corposa come il mio solito, le ho chiesto se aveva un'infermeria eventualmente per assistere il pubblico, ma spero che arriveremo tutti integri in fondo. Di sicuro sono contento che ci sia lei anche perché avendo le chiavi della letteraria può farci stare qui magari un po' di più se magari ci sono delle domande alla fine o delle questioni da porre, perché l'argomento, come si può capire dal titolo, è di sterminata vastità perché coinvolge tutta una serie di eventi storici, di correnti culturali e di vicende che bene o male sono alla radice dell'Italia moderna e dell'Italia contemporanea. Io ho impostato questa relazione un po' come un film nel quale si vede il finale nelle prime scene e poi il restante tempo è tutta una serie di flashback. Perché questo? Perché tutti alla frontiera con la spada e col cuore, questa esortazione lanciata da Cesare Battisti dal balcone del Campidoglio la sera del 17 maggio 1915, rappresenta, se possiamo così dire, l'icona della conclusione di tutto quel periodo, di quella gestazione, guarda caso che sono anche nove mesi, che vede discutere in Italia la questione in merito all'entrata o meno nella Grande Guerra e soprattutto a fianco di chi entrare nella Grande Guerra. Vedremo perché ho scelto questa frase alla fine e qual è ancora il valore di quell'esortazione e di chi l'ha lanciata. Il flashback si origina dal fatto che, bene o male, nel sentire comune, quando si parla di interventismo lo si vede un po' così assorbito da un cono d'ombra retrospettivo o di luce, insomma, di vampe di battaglia della Grande Guerra, come un oggetto politico ideologico nato a ridosso della Grande Guerra. In realtà non è così, perché tutto quello che viene a sfociare nella stagione interventista in realtà è il portato di una serie di movimenti culturali, di analisi politiche, di correnti ideologiche che in Italia sono attive da prima del 1915. E quindi il fuoco della nostra analisi lo spostiamo subito sul 1911. Perché? Perché il 1911, che è il cinquantesimo dell'Unità d'Italia, il giubileo dell'Italia unita, rappresenta la data in cui si afferma e si consolida definitivamente il mito della nazione. Naturalmente cosa intendiamo per mito? Non un'accezione favolistica o così romanzata di una vicenda, ma un insieme di credenze, di ideali e di valori condensati in un'immagine simbolica che può muovere all'azione individui o masse di individui, suscitando entusiasmo, fede e volontà di agire. Quindi in questi termini viene inquadrato il concetto di mito della nazione. Il 17 marzo del 1861, l'abbiamo celebrato quattro anni fa, dopo molto di meno purtroppo, perché come sempre in Italia gli anniversari hanno vita breve, il 17 marzo del 1861 è la data simbolo dell'unificazione d'Italia, nel 1911 appunto si celebra questo anniversario, che è un anniversario pesante, importante, nel quale una nazione che era stata disunita, oppressa, frantumata per 14 secoli, festeggi sui primi 50 anni di vita. Quindi è un bilancio, anche in termini matematici, 1400 anni contro 50, che poneva all'epoca e pone tutt'oggi nell'analisi storica una serie di interrogative e di questioni. Quindi una nazione molto giovane, dal punto di vista istituzionale, ma molto antica come tradizioni e come storia. La percezione di quel cinquantennale la dà bene quello che sarà uno dei profeti della terza Italia, considerando la prima quella degli imperatori dell'impero di Roma, la seconda quella dei papi, la terza quella vaticinata dai padri della patria risorgimentale. Un pensatore nazionalista, uno scrittore, un intellettuale come Alfredo Oriani, scriveva nel 1911, Nel confronto d'oggi l'Italia del 59 è già un paese lontano nella leggenda. La terra dei cantanti e dei morti, la nazione carnevale, che gli stranieri visitavano mesti ironici fra postriboli e monumenti, è oggi uno dei moderni e vitali paesi. La nostra popolazione cresce così che in 50 anni sarebbe quasi raddoppiata senza l'emigrazione. La nostra ricchezza è forse decuplicata, fronteggiamo un debito inverosimile, creiamo tutto, scuola, esercito, marina, improvvisammo senza miniere, opifici e fabbriche, accettando la sfida della concorrenza estera. Le ferrovie furono nella nostra miseria una creazione forse più meravigliosa delle ferrovie americane, già che le costruimo senza danaro e prima ancora che le altre reti stradali potessero congiungerle. Torino, perdendo la capitale, raddoppiò di valore economico, Roma, tornando italiana, risorse a magnifica capitale. Ecco, in questa analisi, in questa suggestione di Alfredo Oriani, c'è tutta la fierezza di un popolo che si guardava e che ammirava pur fra mille problemi la forza raggiunta in così poco tempo e con così tante forze contrarie. Le citazioni in questo senso sarebbero molte. Anche Angelo De Gubernati sparla di una nazione che era considerata di vili a cattoni, tenori imbelli, musicisti in Italia, sempre gli italiani suono il mandolino, cantano, insomma, tenori imbelli e briganti da romanzo. Invece, in opposizione, un popolo vivace, risoluto e fiero. Di questo parla De Gubernati. E anche, senza andare a suggestioni letterarie, quello che era allora il ministro dell'Industria che inaugura l'esposizione di Torino nel 1911, Nitti, che poi sarà un liberale di ferro, difensore dello Stato democratico e delle istituzioni liberali, anche contro d'annunzio durante la vicenda di Fiume nel 19. Nitti, inaugurando l'esposizione di Torino, anche lui diceva, in 50 anni l'Italia nostra, vincendo difficoltà di natura, di ogni natura, ostacoli di concorrenza, sul suo breve territorio, già assai denso di uomini, ha visto sorgere una vita industriale e fiorire una nuova civiltà. La nostra terra ha quasi in sé una misteriosa forza di grandezza e di vita. Pur guardando senza illusioni la realtà, pur constatando ciò che a noi tuttavia manca, quando vediamo il cammino percorso, siamo quasi sorpresi dall'opera compiuta. Quindi la percezione di sé di questa Italia è molto forte, al punto da far parlare a un altro cantore di quell'Italia dei primi del Novecento, come Giovanni Pascoli, di un vero e proprio anno santo della patria. Giovanni Pascoli parlerà appunto di anno santo, dicendo che quello che gli italiani facevano, il popolo italiano faceva, non era una festa, una commemorazione civile, ma una cerimonia religiosa. Quindi un atto di celebrazione della religione della patria. 1911 però è anche un anno cruciale per un'altra serie di motivi, perché è l'anno nel quale culminano una serie di operazioni politiche di ampliamento della piattaforma democratica e di partecipazione delle masse alla vita politica del Paese, avviate da Giolitti. 1911 quindi è l'anno della riforma elettorale che stabilisce l'avvio del suffragio universale all'epoca ancora solamente maschile. E' anche l'anno nel 1911 che nel quadro di una crisi di governo per la prima volta un socialista, Bissolati, sale dell'ex scale del Quirinale per una consultazione in merito appunto alla crisi di governo. Il Partito Socialista, anche quello giovanissimo, nel giro di un ventennio si era guadagnato una visibilità politica e così da una patente di sovversivismo fine a se stessa aveva avuto anche il crisma di un'ufficialità appunto proprio nel 1911. E poi c'è nel 1911 l'entrata in guerra contro la Turchia per il controllo del pezzo di Nord Africa che ci restava possibile agguantare. Naturalmente sapete meglio di me che le prime mire erano andate sulla Tunisia che era quella più vicina al territorio italiano poi tutta una serie di questioni diplomatiche che avevano reso impossibile questa cosa alla fine appunto Giolitti regala vedremo poi perché dico regala ai fermenti intellettuali, ideologici, politici di un'Italia che vuole far sentire la sua forza anche al di fuori dei confini regala questa guerra di Libia. E lo stesso Giolitti nel 1911 quando si inaugura il monumento l'altare della patria che in Roma celebra l'unità nazionale pur essendo un uomo assolutamente alieno da qualsiasi genere di retorica o di sensibilità per vampate danunziane o per aquile imperiali che tornano a volare sui fatali colli di Roma anche lui in quell'occasione si lascia andare a un riconoscimento di apoteosi diciamo di quella che era appunto la celebrazione dell'unità nazionale. Quindi questo crisma ufficiale che viene dato all'immagine dello Stato nazionale rappresenta l'apoteosi di quell'impianto che si era, le cui fondamenti erano state poste nel risorgimento. Quindi la nascita di uno Stato in cui democrazia, monarchia, patria, libertà, nazione, umanità volontà di pace e di progresso si saldavano coronando quelli, almeno in parte, ma insomma nei fondamenti più profondi sì, quelli che erano stati i sogni dei nostri padri della patria. Mazzini aveva parlato di una comunione di liberi ed eguali e fratellati in concordia di lavori verso un unico fine. Ecco il modello a cui si ispira questo Stato liberale in questo cinquantennio è quello appunto di un'Italia di tutti gli italiani, di un'Italia che cerchi di essere il più possibile appunto un luogo di riconoscimento comune per questo popolo così antico ma allo stesso tempo così giovane. E la sintesi di patria e libertà è cruciale per comprendere quali erano le aspirazioni di quegli uomini politici. Del resto anche questa è una citazione mazziniana, questo problema, questa questione della sintesi fra patria e libertà l'aveva ben focalizzata Mazzini già da tempo quando scriveva ad esempio la religione della patria è santissima ma dove il sentimento della dignità individuale e la coscienza di diritti inerenti alla natura d'uomo non la governino è religione che può far la patria potente e non felice bella di gloria davanti allo straniero non libera. E un giurista vicino a Mazzini, giurista napoletano come Pasquale Stanislao Malcini nel 1851 in questa sintesi di libertà, nazione e umanità aveva stabilito il principio di nazionalità come base razionale del diritto delle genti cioè l'idea di un mondo in cui popoli liberi collaborano con fraternità al bene dell'umanità e alla crescita della civiltà in tutto il mondo. Naturalmente in questo momento di fierezza in questo cinquantesimo in cui la coscienza storica di un passato comune faceva anche intravedere la fonte da cui fa scaturire la fede in un futuro comune nasce anche una questione si comincia a interrogarsi sul carattere degli italiani cioè gli italiani hanno un carattere per questi panorami, per queste prospettive di grandezza che gli si aprono di fronte nel cinquantesimo della loro unità la questione era complessa perché a fronte di una fierezza nazionale c'era la percezione di un carattere ancora da costruire qui la citazione leopardiana è del 1824 ancora più indietro e è tratta dal discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani scriveva Leopardi gli italiani ridono della vita ne ridono assai più e con più verità e persuasione intima di disprezzo e freddezza che non fanno in un'altra nazione questo è ben naturale perché la vita per loro va almeno assai che per gli altri perché gli è certo che i caratteri più vivaci e caldi di natura come quello degli italiani diventano i più freddi e apatici quando sono combattuti da circostanze superiori alle loro forze così negli individui così nelle nazioni le classi superiori d'Italia sono le più ciniche di tutte le loro pari delle altre nazioni il popolaccio italiano è il più cinico dei popolacci quelli che credono superiore a tutte per cinismo la nazione francese si ingannano né una vince né ugualia in ciò l'italiana quindi un ritratto impietoso di questa Italia ottocentesca che comunque era riuscita a unirsi e a liberarsi ma che comunque manteneva questa tara genetica di un carattere nazionale non propriamente brillante o non propriamente vocato a destini di grande nazione e quindi a fronte di questo carattere che era percepito dagli intellettuali di vario grado e di varia specie si prefigurava per gli italiani naturalmente un bivio e per i governanti lo stesso cioè come creare il carattere di italiani i famosi italiani da fare della frase storica l'Italia è fatta dobbiamo fare gli italiani lo Stato liberale si pone a questa operazione con sano realismo e con l'idea di un processo graduale di emancipazione c'era però un'altra corrente ideale ideologica all'interno della storia italiana era anche questa ascrivibile alla democrazia repubblicana di Mazzini per Mazzini questo processo doveva essere invece forse in termini magari utopistici opera degli italiani cioè opera di un'iniziativa rivoluzionaria del popolo e quindi una religione della patria che portasse a una rigenerazione attraverso il sacrificio attraverso il martirio attraverso una lotta vera di popolo sappiamo bene che il risorgimento ha avuto questi aspetti per certe vie ma poi non è stata questa la via principale del facimento dell'Italia libera e unita come contrasto di questo carattere negativo degli italiani però era sorta quasi a volerla bilanciare per certi versi una mania di grandezza una grande fierezza a fronte di questa di questa unificazione di questo lavoro raggiunto le tre citazioni che vi faccio sono di tre personaggi anche questi non propriamente assimilabili a barricaderi o a così o a giovani giovani ferventi con le armi in mano la prima è di Marco Menghetti che è un politico della destra storica è diciamo il cuore di quel gruppo di politici che risolveranno la famosa questione romana nel 1870 portando Roma a capitale d'Italia Menghetti ad esempio diceva non bisogna ispirarsi all'esempio di nazioni neutrali come la Svizzera o il Belgio un gran paese diceva lui non può concentrare in questo modo in se stesso la sua attività il bisogno di espansione della giovinezza se non gli si aprono talune grandi prospettive si inacidirà si volgerà incorruttele e malcontento Gioberti quello che aveva profetizzato un'Italia libera federale unita sotto la presidenza del Papa forse magari è un futuro anche non lontanissimo visto quello che non so ogni tanto viene questa idea a qualcuno diceva Gioberti una nazione non può tenere nel mondo quel grado che le compete se non in quanto si creda degna di occuparlo un della modestia eccessiva lo debole talvolta nei privati uomini è sempre abiasimevole nel pubblico come quella che tronca i nervi richiesti alla virtù ai fatti magnanimi quindi una nazione che doveva essere forte e propulsiva nel suo sviluppo verso l'esterno e poi Quintino Sella un altro esponente di questa destra storica famoso per la forza con cui aveva perseguito tenuto il pareggio di bilancio in questa Italia appena nata con così tanti problemi si domandava in un discorso alla Camera del 14 marzo del 1881 chi ha fatto quali siamo chi ci insegnò a volere una patria Roma nient'altro che Roma altri autori ci insegnavano il culto del bello del buono del grande ma noi tutto ciò che sappiamo e che pensiamo tutto quello che sentiamo in fatto di patriottismo lo dobbiamo all'antica Roma per conseguenza quando noi vecchi veniamo qui a Roma che fu la nostra maestra sentiamo una riverenza di cui non potete farvi un'idea non meravigliatevi se quando si parla di Roma le nostre vecchie ossa si elettrizzano pensiamo a queste vecchie ossa di Quintino Sella che a sentir parlare di Roma a andare a Roma sentono la scossa di un destino scolpito e racchiuso in quella città quasi come una sorta di spada della roccia da estrarre per chi ne avesse avuto la forza per aprire i destini alla nuova Italia e naturalmente ma qua il passato è un po' più barricadero di queste tre citazioni c'è Crispi e Crispi è forse l'uomo politico che a fine ottocento incarna meglio la volontà di potenza di una nazione giovane appena nata ma che comunque aspira a ben altri destini Crispi è durissimo contro i negatori della patria come li chiama lui i micromani che vogliono rinchiudere l'Italia nel suo guscio partandola dalle grandi nazioni inibendole tutte quelle iniziative operose del cui sviluppo dipenderà un giorno il conseguimento dei suoi destini gloriosi in questo Crispi perseguirà con morta forza e da statista moderno senza troppi scrupoli chiunque si mettesse contro il suo disegno di fare un'Italia forte con una forte premiership con una capacità di muoversi all'interno del consenso internazionale staccata anche dal sentimentalismo del risorgimento perché ricordiamo che Crispi si muove nell'ambito di una triplice alleanza che ci porterà allearci con i nemici storici dell'Austria Crispi imposta la sua politica estera contro la Francia che era stato l'alleato storico della nostra indipendenza e via dicendo tutte queste desiderie di potenza però ribadisco perché questo è importante in riferimento a quello che abbiamo detto prima sono attaccati e collegati comunque a un forte sentimento di libertà cioè per nessuno di questi uomini politici in questo onorano l'ascito dei padri della patria da Mazzini a Garibaldi a Cattaneo la potenza della nazione può essere scambiata con la perdita della libertà di questa nazione questi sono due passaggi brevissimi il primo è di Vittorio Emanuele il secondo discorso della corona del 1871 rispetto alla fedeltà di quelle libere istituzioni che sono la fede della mia casa cioè invoca il rispetto alla fedeltà di queste libere istituzioni e l'altro è di Vittorio Emanuele il secondo del 1904 quando dice sempre in un discorso della corona solo con la libertà si possono risolvere i poderosi problemi messi innanzi a tutti i popoli dalle nuove aspirazioni e nuovi atteggiamenti delle forze sociali qualcuno di voi starà già pensando Vittorio Emanuele III è quello che non firma lo stato d'assedio nel 1922 quando le camicie nere arrivano a Roma però dobbiamo pensare di fare la storia non col senno di poi perché è facilissimo il Vittorio Emanuele III del 1904 è ancora nel pieno di quella tradizione sabauda che legherà sempre il processo di unificazione nazionale e i destini della corona fino all'avvento del fascismo ha la crescita anche democratica della nazione fin qui il quadro è molto roseo in realtà il quadro non è così roseo perché c'è un'altra faccia di questo giubileo e anche della retorica di questo giubileo e l'altra faccia è quella di quanti non si riconoscono in questo giubileo i socialisti i cattolici i repubblicani socialisti e cattolici i due bacini di utenza politica in crescita e a maggior ragione consolidati da questo dall'avvento del suffragio universale nell'undici repubblicani una nicchia un po' più piccola anche se in alcune regioni come l'Emilia Romagna molto forti dal punto di vista elettorale che rappresentano però una grande forza ideale perché sono il cuore di quella che era stata la stagione risorgimentale anche qui per non fare una citazione troppo di parte troviamo una persona che insomma non è mai stata annoverabile nelle schiere degli anti-giolittiani feroci o dei vaticinatori di un'Italia forte neoimperiale che è Benedetto Croce il quale nel 1911 scriveva credo che ogni osservatore attento e spregiudicato della presente vita spirituale italiana non possa non essere colpito dalla decadenza che si nota nel sentimento dell'unità sociale le grandi parole che esprimevano questa unità re, la patria, la città la nazione, la chiesa l'umanità sono divenute fredde retoriche e poiché suonano false si evita di pronunziarle quasi in un intimo pudore avverta di non nominare in vano le cose sacre col disuso di quelle parole va alla pari una generale decadenza del sentimento di disciplina sociale gli individui non si sentono più legati a un gran tutto parte di un gran tutto sottomessi a questo cooperanti in esso attingenti il loro valore dal lavoro che compiono nel tutto questa è un'analisi abbastanza spietata dei problemi che restavano ancora aperti in quell'Italia cinquantenne vi fu in quel giubileo chi parlò di menzogna d'Italia questi erano i socialisti i quali pur avendo riconosciuto in riferimento al centocinquantesimo le citazioni sono tutte tratte dalla critica sociale avendo riconosciuto che il cinquantenario dell'Italia unita non è muto di luce per i lavoratori italiani perché la conquista della patria borghese fu il precedente necessario della patria proletaria quindi una lettura marxista dell'unità d'Italia come antefatto necessario alla presa del potere delle classi lavoratrici nel contempo sempre sulla critica sociale definiscono menzogna le celebrazioni del giubileo menzogna era la celebrata unità politica della patria nord e sud fanno due nazioni l'una la più misera fuggì oltre gli oceani due nazioni fanno la città e la campagna attorno ai ridotti dell'industria fermentano tuttora le torbi dietristi vandee quindi la campagna fotografata come una vandee a reazionaria il privilegio dell'urna fomenta le camorre le fraudolenze le corruttele le stragi nell'assenza politica di tanta parte di popolo il cinquantenario appare anticipazione temeraria patria una non esiste ancora questo è il sigillo tombale dato dai socialisti nell'undici sulle celebrazioni del cinquantesimo i mazziniani addirittura fanno una contro manifestazione sul gianicolo lo chiamano loro giustamente anche sacro alla terza civiltà di Roma perché il gianicolo per loro era il luogo della memoria della repubblica romana e anche loro non partecipano a queste celebrazioni la civiltà cattolica naturalmente possiamo immaginare la rivista dei gesuiti cosa potesse produrre naturalmente il cinquantenario è ridotto alle chiassate del cinquantenario montatura massonica di esposizioni mostri inaugurazioni commemorazioni gare congressi baldorie con l'unico obiettivo di far dispetto alla religione alla chiesa al papa vicario di cristo tutta questa cosa fatta per far dispetto al papa fa anche un po' tenerezza poverino insomma loro vedono così e definiscono naturalmente non gli sfugge l'occasione blasfemo l'anno santo cioè la definizione che ha dato Giovanni Pascoli di questo cinquantesimo di anno santo è definita blasfema naturalmente in questo scenario di visione critica dell'Italia assurda al rango di nazione matura e che aspira a un futuro di potenza ci sono anche i giovani intellettuali e le avanguardie i giovani intellettuali e le avanguardie culturali la voce che è fondata proprio in quegli anni e che diventa proprio il pollo di attrazione di tutta un'intellettualità che poi vedremo più avanti anche in riferimento all'interventismo parla addirittura di bugia nazionale in riferimento al cinquantesimo e Giustino Fortunato che era un grande meridionalista cognerà un'espressione poi molto fortunata e molto usata in seguito che è quella delle due itaglie in merito a questo sempre sulla voce Edoardo Cimbali che era un giurista antinazionalista dirà parlerà dell'antiunitario e antinazionale spettacolo di due itaglie completamente lacrimevolmente ancora diverse due itaglie delle quali una tutta ricca tutta sana tutta colta tutta progredita tutta civile l'altra tutta povera segregata malarica analfabeta arretrata tutta barbara di due itaglie delle quali una è l'Italia europea l'altra l'Italia africana punto esclamativo questa è la foto fatta da questo economista dell'Italia del 1911 sulla voce all'opposto di questi che erano si muovevano comunque su posizioni democratiche e liberali seppur molto molto critiche c'è naturalmente il disdoro dei nazionalisti per questo cinquantesimo ricordiamo che il nazionalismo era nato nel 1910 ma in realtà è un atto di nascita come dire un po' burocratico perché era il condensato di una serie di fermenti che erano venuti venuti sobollendo già da quantomeno da un decennio comunque anche di più dalla stagione crispina Bernardino Varisco che era un filosofo di area nazionalista scriveva di questa di questa celebrazione se era giusto celebrare la nascita dello Stato Unitario la nostra gioia bisognava però evitare che la nostra gioia degenerasse in una sonnolenza boriosa come se con la formazione dello Stato si fosse chiusa la storia e non ci fosse più campo per l'attività quindi generazioni che sentono di aver perso un po' il treno della storia perché i loro padri i loro nonni hanno fatto risorgimento qui c'è una grande autocontemplazione di sé e della propria forza ma sentono che non c'è uno slancio propulsivo verso l'esterno e naturalmente non può mancare in questo una citazione di Enrico Corradini che è il principe del nazionalismo italiano il quale scriveva i buoni italiani ricordano ora nei fausti giorni anniversari in che modo il liberalismo abbia servito la patria ricordano come male all'interno come senza alcune intelligenze senza alcun coraggio abbia capeggiato la borghesia da cui emanava e su cui si appoggiavano la lotta di classe mossele dal proletariato ricordano come abbia uccisa sul nascere ogni politica estera fosse redentista fosse coloniale questo nostro liberalismo italiano borghese monarchico ufficiale di commendatori e cavalieri ricordano insomma i buoni italiani i giovani italiani i nuovi italiani che il liberalismo non ha avuto mai nessuna fede nessuna morale nessuna forza per creare storia e civiltà allora uno dei periodi più felici dell'Italia Unita che è il periodo giulittiano è fotografato così da una delle forze che avranno poi più peso nell'intervento e poi nella nascita del fascismo dopo la prima guerra mondiale cioè da un movimento nazionalista nato su ispirazione francese dell'Action Française antiliberale antiparlamentare neofeudale che rappresenta in maniera più lampante possibile come giulitti avesse aperto a grandi blocchi popolari le porte della democrazia avesse portato una stagione di benessere avesse anche regalato a questi frementi nazionalisti e come avevo detto all'inizio regalato la guerra di Libia così in maniera che stessero un po' buoni e tranquilli però in realtà non era riuscito a crearsi una classe intellettuale e questo lo pagherà duramente nei giorni dell'intervento a cui arriveremo alla fine di questa relazione e la parola d'ordine per questi per questi giovani intellettuali veniva sempre da Oriani che è un po' un aspetto è ilvate nell'ombra di questa di questa di questa generazione il quale diceva espandersi conquistare spiritualmente con l'emigrazione coi trattati coi commerci con l'industria con la scienza con l'arte la religione la guerra ritirarsi dalla gara è impossibile bisogna dunque trionfarvi questo lo scriveva sulla rivolta ideale nel 1912 e il 12 è un'altra tappa di passaggio fondamentale per avvicinarsi all'interventismo perché il 12 è appunto la guerra di Libia cioè la risposta di un antiretorico di un politico molto concreto di un liberale vecchio stampo piemontese tutto d'un pezzo a questi fremiti e a queste irrequietezze che percepisce strisciare all'interno del corpo della nazione anche su questa guerra ci sono delle citazioni parlavo prima con Silvio Pozzani abbastanza impressionanti perché sono di persone che poi nel corso della loro vita hanno dimostrato sentiremo dopo ve ne farò alcune di Amendola ve ne farò una adesso ad esempio di Adolfo Modeo storico liberale hanno poi dimostrato con la loro esistenza anche una coerenza nel momento in cui ci sarà la prova del fascismo cioè non si sono fatti allettare o se addirittura Amendola verrà ammazzato abbastonate dai fascisti però questi uomini questi liberali hanno sulle pagine della voce o in altri interventi hanno dei toni contro la democrazia liberale giulittiana di una violenza e di una ferocia e di una causticità che sono eloquenti in merito a come si fosse creato un brodo di cultura sul quale poi atteccherà il fascismo cioè questa democrazia giulittiana dell'Italietta non a caso sapete tutti che è passata alla storia come l'Italietta quella lì e lui è passato alla storia come il ministro della malavita così bollato da un altro intellettuale Salvemini che poi dimostrerà nei fatti il suo antifascismo la sua coerenza di illuminista e di fedele della libertà però ecco questa Italia dei primi del novecento è l'Italietta lui è il ministro della malavita e di quest'Italia si scrive malissimo questi intellettuali guardano all'impresa di Libia che è un capitolo interessantissimo della storia d'Italia perché fa vedere come molte posizioni di fronte a quelle exploate di fierezza nazionale si siano riviste rivedute corrette riposizionate perché vibrava la corda della patria ecco la guerra di Libia mostra come ci sia una svolta forte in quel momento nell'identificare in un'azione bellica in una guerra di conquista coloniale un momento di affermazione di questa nazione giovane la prima citazione è di Adolfo Modeo il quale in un altro libro parlando dei soldati italiani della grande guerra sfiora l'impresa libica dice il compiaciuto esame di coscienza del cinquantenario dell'unità la superba impresa libica creavano se non un esaltato nazionalismo qua forse è un po' eufemistico una ferma coscienza patria che anzi soprattutto in coloro che erano alieni della politica che erano destinati a reggere il più duro sforzo era ancora più forte quindi la guerra come cemento di questo giovane stato come cemento con il quale compattare i mattoni di questo giovane stato questo è un dato da tenere presente perché è fondamentale poi per comprendere la stagione interventista in tutte le sue coniugazioni un nazionalista trentino come Scipio Sighele anche lui nazionalista ma liberale diceva che la coscienza nazionale dell'Italia nuova era sorta con la guerra di Libia naturalmente qua pochissimi si interrogavano se fossimo andati lì a conquistare a civilizzare le sinistre avevano le sinistre che non che non staccavano i binari dei treni per non far partire i soldati come Mussolini e Nenni le altre sinistre avevano collocato questa impresa in un'ottica di civilizzazione perché ancora all'epoca c'era l'idea di andare a portare la civiltà in questi paesi a maggior ragione perché erano sotto l'impero ottomano in questo caso e quindi l'idea di fare la guerra ai turchi così come c'è un interventismo riferito alla guerra di Libia di stampo religioso che vedrà la chiesa assente o quasi nel 14-15 invece partire in quarta con un'idea di crociata cioè la guerra di Libia viene vista dalla chiesa italiana che pure stramalediceva tutto il complesso unitario risorgimento la fierezza nazionale italiana era vista come una crociata e quindi come una cosa che si poteva anche fare Teodoro Moneta anche questa è una citazione indicativa Teodoro Moneta Nobel per la pace nel 1907 che in gioventù aveva combattuto qua dalle nostre parti a Custoza diceva così di questa guerra di Libia il triste fenomeno della guerra necessaria che il popolo gentile di Roma combatte sulle coste libiche ecco il popolo di Roma è gentile ma combatte la guerra sulle coste libiche e dice i soldati cittadini d'Italia che vivono combattono e muoiono con parole con gesti con atteggiamenti che nella loro ingenue talvolta rozza semplicità hanno riscontro solo nelle storie dell'antica Grecia e di Roma cioè Teodoro Moneta Nobel della pace si commuove a vedere che i nostri soldati con gentilezza combattono e muoiono e onorano l'eredità di Roma addirittura della Grecia antica Giustino Fortunato anche questa è ancora più indicativa come citazione meridionalista antinazionalista una delle voci più brillanti una delle voci della voce vabbè scusate insomma una degli autori più brillanti della voce il quale pur essendo sempre stato contrario alle ambizioni coloniali dell'Italia e agli eccessivi molteplici sogni di grandiosità queste sono le sue parole della terza Italia aveva applaudito all'impresa perché come aveva confidato a un amico vivendo le giornate dell'impresa coloniale fra i contadini di Basilicata e di Puglia virgolette per la prima volta in vita mia aveva seppi e vidi con gioia non mai provata per l'innanzi che anch'essi ormai sanno di essere italiani allora l'impresa di Libia in mezzo ai contadini della Basilicata e della Puglia è colta come un momento di autorappresentazione di autoidentificazione nazionale questo è interessante perché smonta anche un po' e spiega la leggenda per la quale noi avremmo fatto quattro anni di guerra con sei milioni e mezzo di uomini mobilitati tutti con un carabiniere dietro con la baionetta questa favola che è stata raccontata a me a scuola e che ancora è diffusa in certi circoli ideologici sempre più sparuti cioè di un popolo portato in guerra con i fucili dietro la schiena non sta in piedi e non sta in piedi perché sottovaluta il fatto che in termini magari anche primordiali vorrei dire tribali senza offendere nessuno di questi poveri contadini della Basilicata e della Puglia ma proprio di tradici antropologiche antichissime di essere gruppo di essere comunità in quella guerra come l'avevano percepito nella guerra di Libia sapranno essere gruppo e sapranno sentirsi comunque nazione che dopo questo sia un modo brutto per sentirsi nazione andare a fare una guerra è un altro discorso che però queste masse che ci sono sempre state vendute come inerti analfabete stupide intontite portate alla morte senza motivo in realtà abbiano poi saputo tenere la prova di quegli anni durissimi e anche in queste parole Giustino Fortunato lo racconta bene Emilio Gentile nella sua storia illustrata della grande guerra che è uscita l'anno scorso due anni fa per la terza ricorda queste sue frequentazioni da piccolo con il nonno e gli amici del nonno suo nonno era un contadino della Basilicata tornato per fare la guerra dall'emigrazione in America si fa quattro anni di guerra in prima linea e poi le ricorda questa guerra con i suoi amici e compagni di battaglia non c'è nessuna fierezza ma c'è però la fierezza di aver fatto un dovere di essere stati gruppo di avere tenuto tenuto duro in quei momenti questo è indicativo così come sono indicativi questi contadini di Basilicata e di Puglia che un meridionalista antinazionalista vociano vede vibrare di amor patrio nel momento in cui l'Italia va a fare una prova militare fuori dai suoi confini e anche Prezzolini sulla voce Prezzolini era un altro che era stato contrario alla guerra di Libia però scriveva che la guerra ha rinnovato l'Italia ha rivelato un nuovo stato della coscienza italiana alle nazioni europee e all'Italia stessa la guerra è stata la rivelazione per tutti tanto per i partiti contrari che per quelli favorevoli tanto per gli stranieri quanto per gli italiani che c'è una nuova Italia allora queste sono citazioni di persone che non volevano la guerra di Libia che però di fronte alla guerra di Libia arrivano a dire che lì c'è la prova si è provato che esiste la nuova Italia siamo nel 1912 ecco perché sono partito dall'11 e arriveremo solo alla fine e per certi versi anche marginalmente al caldo del 15 però questi dati e questi giudizi del 12 sono fondamentali per capire che cosa succederà due e tre anni dopo quindi la guerra vista come rito di passaggio in questo senso il decennio 1912-22 si pone come un periodo cruciale della storia d'Italia perché è un periodo nel quale si assiste da un lato all'apogeo del mito nazionale cioè al completarsi della struttura statale impostata e istituzionale impostata dai padri della patria del risorgimento dallo stato sabaudo dalla democrazia liberale formatasi dal 1861 e in poi mentre dall'altra cominciano a emergere nuove concezioni che rifiutano l'idea di una patria di tutti che cominciano a ritenere che la patria possa essere un possesso esclusivo di una parte politica e che non vedono nella democrazia nella libertà come stimoli o come presupposti essenziali all'esistenza della patria ma cominciano a vederle sempre di più dalla stagione interventista fino all'avvento del fascismo come degli intoppi e degli intralci cioè democrazia uguale liberalismo uguale varietà di idee parlamento uguale varietà di idee uguale debolezza uguale anti italianità questo è un fenomeno non solo italiano naturalmente ma quello che lo chiamo in Italia cioè l'idea che la discussione e la dialettica indeboliscono il corpo e la forza di una nazione quindi il 1912 è uno spartiacque perché è appunto un vertice da un lato e dall'altro invece l'aprirsi di nuovi potremmo dire per citare Guerre Stellari dell'aprirsi di un lato oscuro della forza di essere italiani di essere una nazione che cosa si manifesta anche sempre più fortemente nel 1912 il fatto che lo Stato cerca di dare una risposta a queste nuove problematiche all'afflusso di masse sempre più grandi sulla scena politica a rafforzarsi di partiti che non hanno nel loro DNA la nazione perché ricordiamo e questa è una cosa che è una zavorra che si trascina fino al 45 cioè l'Italia repubblicana di oggi è basata su due pilastri antinazionali per eccellenza uno marxista e uno cattolico cioè due forze che hanno nella nazione un antivalore e un disvalore e queste cose emergono già ben prima del 45 30 anni prima bisogna ricordare infatti che il 1912 è l'anno in cui il partito socialista come vedremo dopo travagliato al suo interno anche da un dibattito sulla questione della possibile conciliazione fra patria socialismo internazionalismo e sentimento nazionale prende la svolta decisa di tipo rivoluzionario o semirivoluzionario del 1912 appunto al congresso di Reggio Emilia il congresso in cui Benito Mussolini dopo essersi fatto le ossa da emigrante in Svizzera da leader politico di varie realtà italiane e poi nell'avamposto italianissimo del Trentino torna scala il partito socialista scalza i riformisti in maniera molto violenta li scarica e prende in mano il partito affermando fierissimamente l'inconciliabilità fra nazione e socialismo vedremo che poi due anni dopo come sappiamo bene le sue prospettive sarebbero cambiate e come accenerò non per forza in malafede o perché fosse una persona con pochi valori perché l'analisi a un certo punto cambia ma questo lo affronteremo dopo quindi l'avvicinamento alla nazione del partito socialista abbiamo ricordato prima questa visita di Bissolati al Quirinale c'è sempre provvisamente e si inaugura una lotta senza quartiere contro lo Stato nazionale e allo stesso tempo il liberalismo giolittiano vede staccarsi al suo interno una specie di fronda di corrente di liberalismo nazionale che è rappresentata da Salandre e da Sonnino che guarda caso saranno primo ministro e ministro degli esteri dell'entrata in guerra dell'Italia la quale cerca di rispondere a questa ventata nazionalistica della guerra di Libia nazionalistica non solo riferita al movimento nazionalista ma inteso insensolato come una serie di correnti che sentono la nazione come bussola del proprio agire politico appunto dando vita a un liberalismo più sensibile più di destra se possiamo dire più sensibile alle sollecitazioni di tipo patriottico da tutta questa da tutta questa gamma di posizioni emerge bene come negli anni precedenti alla campagna interventista fondino le radici di tutti gli interventismi che si manifestano nei nove mesi fra il 14 e il 15 cioè l'interventismo liberale di stato diciamo così lo di Salandre di Sonnino l'interventismo democratico della sinistra o degli intellettuali della voce l'interventismo imperialista dei nazionalisti e quello rivoluzionario nella sua accezione modernista ipertecnologica del futurismo o quello imperialista nella sua accezione classica di tipo nazionalista espansivo ricordiamo fra l'altro tra parentesi che i nazionalisti sono innamorati della Germania così come tanti anche filosofi italiani e professori italiani i nazionalisti italiani fino a metà della campagna interventista sono per l'entrata in guerra dell'Italia al fianco degli imperi centrali perché il modello un grande modello di questi intellettuali di questi politici era il Giappone il Giappone aveva molto in comune con noi perché era una nazione giovanissima che aveva dato una bastonata sui denti al grande secolare impero russo nel 1905 1906 e quindi quello era un modello propulsivo molto forte però il modello fortissimo era la Germania sia per concomitanza di unificazione perché il 70 ricordiamo è Roma capitale e la vittoria contro i francesi a Sedan e la nascita della Germania Unita sia per interessi economici perché il grande impulso della nascita dell'economia italiana viene da denari tedeschi dalla banca commerciale che era una propagine tedesca anche qui la storia è lunghissima e brevissima nello stesso tempo ma anche perché questo modello di stato forte militarizzato potente che aspirava a uno spazio vitale rafforzando le sue energie militari culturali intellettuali era un modello ambitissimo da tutti i neo idealisti italiani dai nazionalisti anche da correnti magari disomogene ma che si riconoscevano in quel modello naturalmente poi la storia porterà i nazionalisti con una giravolta che si ricordano sempre le giravolte di Mussolini ma anche questa è una giravolta non da poco dalla mattina alla sera dire vabbè facciamo una guerra purché ci sia la guerra quindi non più con i tedeschi ma con i francesi e con gli inglesi queste forze attive contro lo stato liberale erano naturalmente avevano una capacità percussiva come sempre capita in politica molto più penetrante rispetto allo stato istituzionale avevano più visibilità erano più affascinanti avevano una presa sui giovani incredibile non bisogna dimenticare che un blocco trasversale fortissimo dell'interventismo sarà quello dei giovani di varie collocazioni politiche ma l'idea di non perdere quel treno della storia l'idea anche di dare una prova di virilità perché andare in guerra c'era un detto una volta che diceva chi non è buono per il re non è buono neanche per la regina cioè era un passaggio cruciale dell'essere maschi e dell'essere cittadini andare a fare una guerra e questi giovani avevano sentito troppi racconti ormai di padri e di nonni e nella loro mente alleggiava la domanda e noi ecco il fascino di questi movimenti che contrastavano il liberalismo giolittiano era molto forte d'altro canto bisogna anche però riconoscere senza fare un quadro topocatastrofico che comunque nei 50-60 anni di esistenza dello Stato liberale di lavoro ne era stato fatto molto attraverso la scolarizzazione attraverso la percezione di essere parte di una entità nazionale anche in strati sociali apparentemente o teoricamente esclusi da questo ci sono pagine di Battisti quando va visto che siamo partiti da Battisti e finiremo con Battisti quando va a fare i volantinaggi da socialista lungo queste carovane di treni fermi in stazione che aspettano di portare i lavoratori italiani a lavorare in Austria in Germania o come crumiri o come sottopagati cioè una specie di lampedusa trentina di disperati che andavano verso posti migliori a lavorare e lui in una lettera dice sono restato allibito perché ho trovato che questi operai sono crispini inneggiano a crispi cioè erano nazionali cioè loro che andavano all'estero dove venivano trattati come delle bestie possiamo immaginare i tedeschi come trattavano bene degli operai italiani ecco loro inneggiano cioè anche la nascita di un sentimento nazionale in strati sociali che magari erano esenti teoricamente da questo è il prodotto comunque di uno stato liberale quindi il mito della nazione era comunque forte era forte su più parti a più livelli è un mito della nazione che appunto diventa presupposto comune praticamente a tutte le forze politiche in campo in quel momento abbiamo ricordato nazionalisti imperialisti movimenti culturali che volevano che l'Italia crescesse per accogliere le sfide del nuovo secolo il dibattito all'interno della sinistra democratica anche un certo dibattito all'interno del mondo cattolico ad esempio può lasciare stupefatti scoprire un don sturzo fondatore del partito popolare italiano antifascista ai limiti dell'esilio appunto con posizioni critiche su tutto quello che può essere l'ipernazionalismo italiano scrivere invece pagine positive anche lui sulla guerra di Libia e su quello che la guerra di Libia aveva comportato per la compattezza della nostra nazione così come non bisogna dimenticare che era nata proprio in quegli anni una lega democratica nazionale che era una piccola cellula interna al mondo cattolico che insisto sarà in stragrande maggioranza contrario all'intervento in guerra e alieno da qualsiasi fremito patriottico però anche nel mondo cattolico c'erano queste prime pulsioni dunque un mito nazionale che diventa conflittuale Guido de Ruggero grande grande storico a questo proposito aveva fatto un'analisi abbastanza spietata però realistica analizzando appunto come la nazione fosse divenuta una pedina in un gioco che l'ha trascente una posta per un'impresa d'azzardo la nazione messa nelle mani di fanatici i quali non potendo propagarsi si sono irrigiditi in un vano orgoglio e si sono accaniti in un'opera di distruzione o almeno di corrosione verso tutto ciò che non si lasciava inquadrare da cui scaturiva la necessità di escludere di eliminare fino ad identificare se stessi con la nazione fino ad assumere l'assoluto monopolio della verità e della realtà ecco De Ruggero aveva colto come la nazione non fosse più un luogo di tutti ma fosse diventata una pedina in un gioco politico per il quale si aprivano le porte a una dialettica in cui si poteva dire la nazione è mia tu sei fuori dalla nazione l'Italia la rappresento io non la rappresenti tu vedremo poi come una serie di eventi accelereranno questo fenomeno uno su tutti la deriva astensionista del partito socialista l'incapacità di cogliere lo stimolo che era venuto da Mussolini nel 14 la scelta nel 18-19 di innamorarsi del mito rivoluzionario bolshevico e quindi il calarsi nella parte perfetta degli anti italiani cioè la sinistra italiana dal 1912 in poi fino al 22 sono appunto il decennio che avevo citato prima scende un piano inclinato diabolico che la porterà a essere il perfetto bersaglio l'antimateria contro cui il fascismo potrà arrogarsi il diritto di essere lui l'unico rappresentante della nazione naturalmente in questa come dicevo prima in questi fremiti di energia di gioventù vitale le sfumature erano molte e però avevano appunto come unico obiettivo questo povero Giolitti l'istituzione che lui aveva creato lo stato come l'aveva pensato il 9 dicembre del 1913 Arturo Labriola scriveva e quando vi dicevo prima dei toni di queste persone esiste un'Italia cattolica esiste un'Italia socialista esiste un'Italia imperialista non esiste un'Italia giolittiana l'Italia giolittiana è una mediocre combinazione parlamentare nata fra i corridoi e l'aula buona soltanto impedire incapace di creare questa Italia deve sparire questi sono i toni Adolfo Modeo che avevo citato prima studioso del cristianesimo anche lui seguace di quello che diceva Mazzini sulla patria e sulla libertà esaspera l'invocazione diciamo esaspera la fotografia di queste due Italia di un'Italia giolittiana scadente decadente arrivando addirittura a invocare la guerra civile dice Modeo la patria nuova è questo di cui abbiamo bisogno non la patria vecchia la patria di retori ma la patria viva senso aspirazione dell'anima rinnovata che la patria diceva Mazzini è la coscienza della patria la nazione nostra che ora è politicamente un aggregato non benfuso di antiche regioni la vita nazionale che è disgregata nelle singole egoistiche attività individuali la vita morale che si impaluda negli interessi civili tutto bisognerebbe rifondere tutto riunire in una profonda volontà che tutto abbracci che tutto vincoli in cui tutto converga creare la patria anche con la fiaccola della guerra civile naturalmente questi sono la loro idea di un'ità nazionale era un'idea libertaria di un'ità nazionale ma se noi prendiamo queste parole e le mettiamo in bocca a un quadrunviro se le avesse scritte Italo Balbo queste parole il quale fra l'altro era un repubblicano mazziniano anche lui da giovane ecco avrebbero ben altre prospettive Francesco Saverio Nitti torniamo riricordo il pedante noioso in Marsina che va a interrompere questa Woodstock patriottica di fiume di Danunzio nel 1919 quello che contrasta i furori immaginifici di Danunzio scriveva Nitti il popolo si rassegnerebbe anche alla miseria presente se l'anima nazionale vibrasse se un legame comune ci unisse in qualcosa e per qualcosa soprattutto se fosse chiaro uno scopo una meta da raggiungere popoli traversati dall'identità religioso dominati da una febbre di grandezza e di espansione si sono rassegnati a una miseria ancora più grande hanno trionfato ma gli ideali che si additano alla nazione sono artificiosi e nessuno crede in essi e i nostri politicanti sono troppo miserabile cosa perché la nazione li segue quindi un antiparlamentarismo sfegatato aperto violentissimo questo Parlamento questa democrazia non funziona non rappresentano gli interessi vitali dell'Italia e poi Giovanni Amendola filosofo martire della libertà ammazzato dagli squadristi dopo il 22 parla dice vogliamo fondare nel granito della vita morale con una religione che ci colleghi più profondi più totali motivi dell'umanità il saldo ed etico edificio della nuova storia italiana che uscendo dalla nostra quotidiana umiltà si atto a cimentarsi nei secoli ecco modernità e peso peso importante e positivo di tutta la polvere di storia che gravava sull'Italia perché insomma diciamocela tutta adesso abbiamo una storia alle spalle che non è che molti hanno e quindi bisogna anche comprendere come queste persone andando magari in carrozza a Montecitorio passavano di lato ai rostri o al foro romano non è che è come passare di lato a un fiume di Bruxelles o non so a un bosco della Sassonia sono luoghi che evocano e nessuno di questi è resente da queste fascinazioni però sono anche naturalmente fascinazioni che vengono lette nella modernità lo ricordavo prima i futuristi anche loro sono una delle forze pulsanti contro il giolittismo e futuristi che invocavano anche qua virgolette una coscienza che spinga l'Italia sempre più al lavoro tenace e alla conquista feroce che gli italiani abbiano finalmente la fierezza di sentirsi soli armati modernissimi in lotta con tutti e non pronipoti assopiti di una grandezza che non è più la nostra e qui l'esempio del Giappone per loro era fortissimo agli opposti dei futuristi o forse non agli opposti ma confinanti in una sorta di cortocircuito fra rosso e nero c'era questa saldatura potremmo definire fra Marx e Nietzsche che è quella operata dagli anarcho-sindacalisti pensiamo due figure su tutti Alceste de Ambris Filippo Corridoni che poi morirà nel 1915 alla trincea delle frasche pare in una disperata azione suicida perché non ne poteva più di come lo tormentavano in trincea gli altri invece non è voluto la guerra provate a pensare come erano percepiti dai soldati di leva quelli che avevano animato le piazze italiane dicendo la guerra o la rivoluzione comunque muore in questa azione eroica nel 15 alle trincea delle frasche Corridoni con De Ambris una delle figure di spicco di questa corrente che è respirata le teorie della violenza di Sorella Blanchi a tutta una serie di letteratura francese appunto sindacalista rivoluzionaria di sinistra e qui non si può non citare dicevo prima Mussolini a Trento questo Mussolini Trentino che è sempre stato descritto come dai fascisti come totalmente già fascista e duce duce in nuce se mi si passa il gioco di parole dalle sinistre invece come assolutamente internazionalista che poi tradirà nel 14 in realtà è un po' più complessa la cosa perché Mussolini nel 1909 a Trento scriveva questa osservava un'Italia che andava perdendo le caratteristiche del cimitero dove un tempo sognavano gli amanti e cantavano gli usignoli oggi fischiano le sirene delle officine l'Italia accelera il passo nello stadio dove le nazioni corrono la grande maratona della supremazia mondiale gli eroi hanno lasciato il posto ai produttori dopo aver combattuto si lavora l'aratro feconda la terra e il piccone sventra le città l'Italia si prepara a riempire di sé una nuova epoca nella storia del genere umano mica male per uno che doveva essere non patriottico e ipersocialista ecco se si vanno a vedere queste cose qua si capisce anche meglio il 14 senza rubricare la svolta di Mussolini di quell'anno solamente come la giravolta di un politico un po' creativo di queste pulsioni imperialiste naturalmente come abbiamo visto c'era chi le coltivava tenendo forte salda ancora la fede nella libertà appunto ricordiamo Amendola ricordiamo Scipio Sighele ricordiamo altri pensatori che ho citato fino adesso ma c'era chi naturalmente non aveva questa questa pregiudiziale non considerava la libertà un mattone di questa potenza nazionale l'associazione nazionalista che era nata nel 10 ricordo aveva questa rivista che era il tricolore e su questa rivista si scriveva l'Italia non può e non deve contenersi deve competere con le grandi nazioni non deve soccombre per evitare ciò necessita una politica di forza di grandi imprese di espansionismo la politica vittoriosa dei grandi popoli è la politica tradizionale di Roma conquistatrice dominatrice del mondo contro il demagogismo invadente piazzaiolo questa sarebbe la democrazia contro la follia livellatrice del socialismo contro l'eviltà del radicalismo finalmente contro il parlamentarismo sfaccendato e imbroglione sembra una roba scritta ieri invalido e immorale che non rappresenta più la coscienza nazionale e non comprende la nuova funzione della nazione del mondo e qua c'è nel 1909 c'è il manifesto delle camicie nere volendo pronto in freezer da scongelare al momento giusto faceva eco a questo un sindacalista nazionalista come Mario Viana il quale scriveva una nazione non può avere aspirazione di grandezza di potenza se non venere al passato se non esalta la propria forza se non arma eserciti poderosi e navi colossali lanciate sulle onde del mare infinito da questo a scivolare verso l'idea che noi oltre a essere conquistatori dominatori erediti romani fossimo anche una stirpe a parte una razza a parte il rischio del confine è molto vicino e anche qua ci sono già dei germi di quello che succederà poi dopo con il fascismo e qua mi dispiace perché è un personaggio che a me piace molto però bisogna citare D'Annunzio nella canzone di Garibaldi quando dice l'eroe sempiterno della bella e dominatrice razza ariana gulp di alta statura biondo come l'oro dei tramonti italici e dell'enici dagli occhi azzurri come il suo tirreno ecco non mi risulta ogni tanto fa qualche battuta qua e là nei suoi libri perché l'usuraio ebreo non mi risulta e anche poi il dannunzio del 38 delle leggi razziali dell'alleanza con la Germania molto critico con Mussolini però come dicevo prima quando uno scrive certe cose non deve poi lamentarsi se passa qualcun altro le tira su le leggi e dice che bella sta roba qua facciamo una bella legge che noi abbiamo gli occhi azzurri e siamo i biondi eredi di Garibaldi naturalmente il cono d'ombra proiettato dal fascismo dalla dittatura sulla grande guerra è un cono d'ombra che retrospettivamente si proietta anche sulle radici di determinate miti nazionali di determinati modi di vivere la patria e la nazione e lo ingigantisce cioè per un lungo periodo si è ridotto l'interventismo a cosa? ai futuristi ai nazionalisti ai protofascisti al massimo agli anarcho-sindacalisti tanto per ricordare che Bianchi uno dei quadrumvi della marcia su Roma era un anarcho-sindacalista e che comunque anche Mussolini si muoveva un po' in quell'area lì in realtà c'è un nazionalismo non imperialista che però non possiamo non chiamare nazionalismo perché ha comunque del nazionalismo la pulsione verso una grande Italia una rigenerazione del carattere nazionale una valorizzazione della civiltà italiana e il fare della civiltà italiana un faro per la costruzione di una civiltà mondiale cioè uno sviluppo nazionale come antefatto di una nascita di un carattere nuovo che sia anche di modello all'estero in questo la voce di Prezzolini era stata un pilastro importantissimo ci sono pagine ad esempio di Antonio Anzillotti nelle quali si contesta al fatto di rivestire il povero piccolo popolo lavoratore con i paludamenti degli imperialisti di Corradini e si invoca la necessità di scolarizzazione di far crescere la nazione prima di avere ambizioni verso l'estero ci sono pagine ad esempio di Scipio Slata perché cadrà sul Podgoran il 15 uno degli intellettuali più brillanti della Trieste e della Firenze dei primi del novecento amico degli Stuparic il quale praticamente ricognuga il credo mazziniano alle soglie del novecento dicendo che bisogna pensare un'Europa di popoli di nazioni c'è questa frase bellissima dice noi inutile negarlo viviamo internazionalmente e fra un tedesco intelligente e un italiano sciocco preferiamo il tedesco in un certo senso dunque è già compiuta la confederazione dei popoli ecco questo approccio qui non lo troveremo mai nei nazionalisti non lo troveremo mai nei futuristi ma c'è invece in questi imperialisti democratici se possiamo chiamarli così che circolano intorno al nucleo fondante della voce e Gioacchino Volpe ecco lui è un vociano che poi approderà il fascismo invece diceva non ci sentiamo di annullare le questioni sociali nelle questioni della politica estera dell'espansione ci pare contrario le nostre tradizioni i nostri interessi alimentare in noi e quindi incoraggiare negli altri uno spirito di sopraffazione imperialistica quindi non risolvere i problemi interni dell'Italia con una spinta esterna ma fare crescere l'Italia per poi farla diventare un soggetto importante a livello globale alla luce di tutto quanto detto fin d'ora è evidente che la grande guerra diventa per tutti questi pensatori intellettuali politici una grande prova di maturità della nazione della quale era stato per certi versi un anticipo la guerra di Libia quindi la necessità di far vedere che noi potevamo essere protagonisti della storia non assoggettando popoli non il patriottismo belligero di cui parla sempre Teodoro Moneta ma sapendo onorare la più bella e la più pura delle rivoluzioni che rammenti la storia cioè il risorgimento sempre parole di moneta cioè quindi essere forti ma rispettando la libertà e le altre nazioni naturalmente questo dibattito c'è anche a sinistra avevo ricordato prima il tentativo l'esperimento di unire socialismo e patria non si può non fare qui il nome di Cesare Battisti anche se è un personaggio della storia d'Italia un po' sui generis perché è cittadino austriaco fino al 14 anzi in realtà fino al 16 perché è come cittadino austriaco che viene condannato a morte però ecco Battisti che era in contatto con Salvemini che aveva un vivacissimo rapporto col socialismo italiano è indicativo di questo sforzo compiuto da una parte del socialismo scriveva ventenne nel 1895 il socialismo vuole che non si ripeta ne fando costume di onorare i propri grandi col detrarre quelli delle altre nazioni che si riconosca l'eroismo e la magnanimità solo nei martiri della propria patria per coprire di contumeglie gli eroi nazionali degli altri popoli il socialismo domanda che messo da parte ogni spirito di odio si prenda il bello e il buono ovunque si trovi in Austria come in Francia in Inghilterra come in America quindi un manifesto di patriottismo democratico portato poi avanti con coerenza fino al martirio ma che poteva essere un nucleo fondante per un ricollocamento del partito socialista purtroppo non sarà così e nel 14 vent'anni dopo alla vigilia di quel grido tutti alla frontiera con la spada e col cuore scriveva solo abbattendo l'impero osburgico in nome della libertà delle nazioni potrà tramutarsi in realtà quello che fu il sospiro di Mazzini e il programma di Carlo Marx la federazione degli stati d'Europa Mazzini e Marx unione ardita perché chi conosce Mazzini sa quanto poco amasse Marx però l'idea di un socialismo che unisca e saldi nella lotta per i diritti degli ultimi tematiche di patriottismo e di giustizia sociale nei rapporti tra i popoli è la grande meta e il grande sogno di Cesare Battisti gli faceva eco in questo patriottismo umanitario ispirato a Mazzini anche Tullio Rossidoria quando scriveva che l'amore della patria non distrugge ma rinforza quello dell'umanità e non si può giungere al bene dell'umanità senza partire da quello della patria se noi socialisti vogliamo giungere all'umanità non possiamo non dobbiamo prescindere dalla patria è dentro alla patria che noi dobbiamo fare le nostre lotte di classe per migliorare l'economia nazionale migliorando le condizioni di vita dei lavoratori elevando il diapason della vita civile di tutte le classi l'unità di Salvemini che nasce nel 1911 quest'altra straordinaria fucina culturale su cui scriveranno appunto Slata per gli stupori i giantissimi giovani intellettuali è un'altra forte contributo a un ragionamento comune politico in termini socialisti democratici e federalisti del mito di nazione purtroppo ricordavo nel 12 questo esperimento fallisce clamorosamente perché a Reggio Emilia la scelta è un'altra e è un esperimento poi che fallisce ancora più miseramente nel 14 perché la svolta rivoluzione questo non si ricorda mai del 14 il 14 non è solo l'anno in cui scopri la grande guerra è anche l'anno della famosa settimana rossa è una settimana rossa che in certe parti dell'Italia vede addirittura i generali con il loro corpo d'armata catturati dai rivoltosi vede insurrezioni non con un particolare alto numero di vittime perché noi italiani in fin dei conti alla fine la ghigliottina non la tiriamo mai su in piazza per fortuna purtroppo però è un momento di prova generale della rivoluzione di questa grande massa di popolo scontento affamato contadini operai organizzati dei socialisti degli anarchici cosa succede? niente finisce nel niente anche quelli di quella parte sono tutti molto il sindacato dice ma manì ma no babù aderiamo non aderiamo Mussolini prima sembra scatenato poi dice ma vediamo come si mette alla fine come tutti questi esperimenti politici o si coglie l'attimo o come certi dolci quando si apre la portella del forno troppo presto si siede e le settimane rossa si siede ma non perde il suo valore simbolico per la politica italiana perché Mussolini nel 14 quando fa la svolta di scegliere la guerra lo fa anche perché ha capito che è solo la guerra che potrà portare eventualmente la rivoluzione perché la rivoluzione dall'interno l'aveva dimostrato la giornata rossa per un panorama come era quello italiano per una realtà come era quella italiana territoriale storica sociale era impossibile e come ricordavo il PSI poi appunto prende questo piano inclinato prima di questo molto gesuitico e anodino né aderire né sabotare cosa vuol dire? niente vuol dire non fare la rivoluzione e passare per antipatriotici e poi appunto l'innamoramento per la rivoluzione il terrorizzare tutti dicendo faremo come in Russia e non farlo mai si poteva anche fare vedere come sarebbe andato a finire ma non viene fatto fino alla scissione del 21 alla nascita del PC e appunto a questo calarsi nella parte perfetta degli anti italiani e degli antipatriotici quindi un ottimo bersaglio con scritto in fronte nemico interno da abbattere una quinta colonna antipatriotica siamo arrivati a Mussolini Mussolini è l'ultima figura non è una corrente dell'interventismo avete visto che non vi ho parlato abbiamo parlato di interventismo fino adesso senza parlare del periodo giusto perché queste sono tutte le gambe dell'interventismo da quello ministeriale burocratico che decide una guerra nei gabinetti della diplomazia e nelle presidenze del consiglio senza nessun colpo di stato come si andrà anche qui gabolando dopo non c'è nessun colpo di stato le guerre sono decise a parlamenti chiusi in Europa le decidono i primi ministri i re e i ministri degli esteri queste sono le tre figure che giocano l'entrata in guerra non solo dell'Italia da quell'interventismo all'interventismo democratico di un socialisti di un salvemini fare la guerra per uccidere la guerra anche qui si può dire ma cosa è venuto fuori dopo ma non ha senso ragionare così in termini storici perché allora bisognerebbe dire che Gesù sapeva già che ci sarebbe stato Torchemada non funziona così la storia in quel momento storico questi uomini vanno a combattere a morire pensando di uccidere la guerra e di creare un mondo migliore se si vede questa come una guerra dei trent'anni invece come il 15-18 è comunque uscita un'Europa di popoli liberi e affratellati che è l'ideale mazziniano pur con tutti i suoi limiti quindi non c'è da fare tanta ironia sui salvemini sui battisti perché dopo la grande guerra è venuto il fascismo il nazismo lo stalinismo magari io adesso faccio la conferenza esco di qua mi casca una mattonella in testa e uno può dire ma che scemo quello lì perché è andato a parlare la letteraria che è morto mezz'ora dopo ecco fare la storia così non è che onori molto l'intelligenza l'interventismo poi democratico intellettuale degli slatta per degli amendola dei vociani l'interventismo dei futuristi l'interventismo degli anarcho-sindacalisti che volevano fare la rivoluzione attraverso la guerra e poi c'è un interventismo che è tutto suo che è quello di Mussolini che è l'interventismo di un uomo che è stato il numero due a lungo e poi il numero uno della sinistra italiana che quando la scoppia la guerra è il direttore dell'avanti che vuol dire dirigere l'organo di trasmissione fra il vertice del partito e le classi lavoratrici il quale di fronte a quella guerra per tutta una serie di sollecitazioni perché è un uomo che vuole giocare se stesso sulla roulette del destino fino all'ultimo lo si vedrà con la pagina della Repubblica Sociale con l'ultimo penoso tentativo di fuga travestito a soldato tedesco che spera ancora di passare in Svizzera con dei documenti e di avere da dir la sua ancora dopo il 45 è uno che vuole giocarsela fino all'ultimo è vero è uno che riceve i soldi dalla Francia per fondare il popolo d'Italia anche qui i racconti per anni che erano i padroni e avevano voluto il popolo d'Italia e la grande industria in realtà il popolo d'Italia è un'operazione voluta dai servizi segreti francesi per avere una forte voce che portasse la bilancia della scelta dello Stato italiano verso l'intesa e non verso i tedeschi e gli austriaci comunque ci sono i soldi della Francia sì c'è però anche la crisi di un uomo politico che ha dentro di sé una fortissima componente patriottica che è quella che ha bevuto con il latte in Romagna la Romagna dei repubblicani dei socialisti degli anarchici è una Romagna di uomini che hanno fatto risorgimento prima di diventare antistato e sono antistato non perché sono anti italiani sono antistato perché lo Stato umbertino borghese liberale per loro non è la realizzazione del risorgimento il fatto che ci sia la monarchia e non la repubblica per loro non è la realizzazione del risorgimento ma il loro DNA è fortemente patriottico basta leggere le pagine di memorialistica di soldati romagnoli della brigata casale che combattono sul fronte dell'isonzo sembra di leggere degli studenti a Curtatone e Montanaro nel 1948 contadini operai intellettuali sono lì a fare la quarta guerra di indipendenza loro romagnoli e lui romagnolo ha questa componente nazionale fortissima che gli viene fuori in Trentino molto forte abbiamo letto la pagina di prima e saldando questa componente con le fascinazioni verso la Francia che era comunque la Francia della comune del 70 dei valori della rivoluzione francese saldando questo con la percezione di politico molto sveglio e molto scaltro che quello del ne aderire ne sabotare era un vicolo cieco stupido si sgancia da questa cosa e dà vita a una sua corrente di interventismo che poi approderà a un patriottismo di sinistra nel 19 con i fasci di combattimento e poi sia il vero tradimento dopo le elezioni quando prende questo blocco intellettuale ideale lo volta completamente lo mette è lì il tradimento di Mussolini nel 1914 perché Mussolini nel 1914 in sostanza è un socialista patriottico che fa una scelta politica molto precisa e molto lucida all'interno di una situazione di marasma generale che non richiedeva certo una politica di basso profilo come quella scelta dal partito socialista concludo in un minuto anche perché magari ci possono essere delle domande abbiamo parlato di intellettuali di politici di onorevoli di letterati di capi sindacali dove è il popolo la solita domanda certo anche su questo la storiografia è stata a lungo pervicace nel dire che l'interventismo era una porzione microscopica dell'Italia adesso se uno sente parlare i snenghi i snenghi parlano ormai di metà contro e metà pro perché questo perché è pur vero che pesate su una bilancia numerica le forze politiche contro l'intervento erano molto più forti ma è anche pur vero che esiste una temperatura interiore di un popolo di una nazione delle classi sociali che è difficile da misurare cioè quella fierezza dei contadini analfabeti del sud Italia per la vittoria in Libia bisogna vedere prima di vedere cosa sarebbe stato l'orrore delle trincee se magari quella corda non si fosse messa a vibrare anche nel 14-15 e anche nella borghesia e anche in classi che apparentemente potrebbero sembrare fredde ma non lo sono il Corriere della Sera in questo indicativo cioè il giornale che da là la campagna interventista non è un giornale di esagitati o di scalmanati ma è un giornale che rappresenta sicuramente un padronato una classe economica forte ma è anche un giornale diciamo della borghesia e delle nuove classi che stanno emergendo intellettuali sociali che colgono in questo intervento una possibilità per l'Italia di dire la sua anche qua non facciamo l'errore di pensare che si sapesse già cosa sarebbe stata la guerra ma non lo si sapeva in termini tecnologici non si sapeva che sopra Passo Vezina in dieci minuti di una mattina un intero reggimento di fanteria bandiera al vento viene sterminato da una mitragliatrice austriaca questo purtroppo non si sapeva e quindi l'ingenuità di dire benissimo facciamo questa guerra perché dobbiamo dire la nostra in Europa erano molto più vaste molto più diffuse di un piccolo nucleo interventista detto questo però il popolo dov'è che c'è? il popolo ci sarà in guerra cioè quell'Italia che si ammirava nel suo cinquantesimo compleanno è un'Italia che tiene botta in quei quattro anni lì anche questo la storia l'ha dimenticato nascosto artefatto per motivi politici per interessi accademici per pigrizia intellettuale perché faceva comodo dipingersi sempre come dei vigliacchi perché tanto se siamo vigliacchi e scappiamo qualsiasi nostro fallimento si inserisce in questo quadro invece quel popolo tiene tiene a Caporetto come ha rivelato sembrerà un paradosso ma l'ha rivelato la storiografia recente che sequenza di battaglie disperate dal resto è stata la settimana successiva a Caporetto in cui c'è magari qualcuno che scappa ma c'è c'è chi tiene chi fa sfilare un'intera armata fino sul piave e c'è chi si pianta dopo otto giorni sul piave sul grappa a resistere in condizioni disperate a vincere dopo un anno la guerra tiene nel 18 ad esempio la grande offensiva fatta dagli alleati nel 18 dagli alleati dai tedeschi nel 18 in Francia quando rischiano di nuovo di arrivare a Parigi questo pochi lo ricordano perché la Germania avrà il mito della pugnalata alle spalle di aver perso la guerra senza averla persa perché nel 18 la Germania è ancora lì che martella ragazzi cioè la Germania sta riarrivando a Parigi chi ferma la punta massima di penetrazione tedesca gli uomini del contingente italiano mandato lì che avevano già combattuto sul fronte italiano quelli che muoiono a Bligny sono soldati italiani che venivano già dalla guerra in Italia sono popolo italiano che poteva essere stufo esasperato bombardato di letterine dei parroci che dicevano che la guerra era brutta che era un inutile strage bombardato di propaganda socialista eppure quel popolo c'è lì quindi il popolo che forse non c'è nell'interventismo delle piazze nell'interventismo degli intellettuali c'è poi alla prova dei fatti cioè il suo esame di maturità lo supera quell'esame di maturità glielo guasteranno dopo la dittatura e vent'anni di fascismo e tutto questo detto fino adesso potremmo anche dire che era inutile perché chiudo ricordando che nel pieno della stagione interventista quando si decideva cosa facciamo dove andiamo con chi combattiamo l'Italia importava il 90% del carbone dall'Inghilterra e aveva autonomia di grano e carbone prendo questi due oggetti per dire il mangiare e l'industria e il lavorare per meno di un anno e qui si apre un altro discorso che sarebbe molto lungo cioè le risorse vitali di un paese la capacità lo vediamo ancora oggi quando siamo lì a vedere chi ci apre o chiude il rubinetto del gas cioè l'Italia del 1915 fa sì una scelta forte ideologicamente entra in un grande dibattito politico che è anche una prova per certi versi di democrazia di maturità ma lo fa mi dispiace intristire il tutto in una situazione nella quale non è che si potesse stare alla finestra o a rimirare il parecchio di cui parlava parlava Giolitti perché i tedeschi e gli austriaci se avessero vinto ci avrebbero disintegrato perché gli alleati se avessero vinto ci avrebbero trattati come come dei pezzenti c'è qui una una bellissima citazione bellissima mi dispiace di Mussolini dice insomma bisogna decidersi o la guerra o se no finiamola con la commedia della grande potenza facciamo delle bische degli alberghi dei postriboli e ingrassiamo un popolo può anche avere questo ideale ecco non volere fare questa fine ma voler partecipare a quella che era la prima grande guerra dell'Italia Unita era sicuramente un movente forte ma non era non era purtroppo una scelta che aveva un'alternativa perché quella guerra andava fatta e forse farla dalla parte giusta e qui chiudo richiamandomi alla citazione battistiana dell'inizio è stata anche un valore in più perché ho voluto mettere quella citazione non perché io sia è brutto dirlo per uno storico ma letteralmente innamorato di Battisti ma l'ho messa perché alla fine di quell'interventismo di quella complessa congerie di movimenti ideali di pulsioni che costituisce il cartello il blocco interventista e nella quale Battisti si cala con grande umiltà sapendo benissimo che lui non ha niente a che fare con Alfredo Rocco con Federzoni con i nazionalisti con Marinetti lui è un illuminista è uno che lotta per la libertà però ecco di quel blocco l'unica voce che si salva ancora perché comunque era una voce che parlava di Europa Unita di stati liberi di libertà all'interno delle nazioni e di libertà per le nazioni era la voce di Battisti che era alla fine una voce che veniva da lontano cioè veniva da Garibaldi da Mazzini e da Risorgimento grazie vi ringrazio è tardissimo eventualmente se ci sono domande rispondo anche in privata sede oppure se volete star qua e parlare io non ho niente da fare come volete voi grazie grazie dell'attenzione per ignoranza sì ma anche il filo spinato c'era già stato diciamo una delle grandi scommesse perse della grande guerra che comunque si pone come apoteosi della modernità e della razionalità per certi versi anche quello no è un luogo di discrimine fra razionale e razionale cioè è l'Europa trionfante che ci ha descritto tempo fa benissimo Emilio Gentile nell'Apocalisse della Modernità che trionfa della sua forza della sua intelligenza ma anche un'Europa che poi apre la porta che dà sui suoi istinti più oscuri più terribili ecco una grande sconfitta della razionalità dell'Europa è che questa grande sorpresa ma non siamo solo noi italiani se lei guarda le foto del primo anno di guerra dei francesi sono in braghe rosse giacca blu e che p alla carica con la sciabola infatti in un solo giorno ne muoiono 25.000 in una famosa battaglia 25.000 in un giorno non è male ecco allora tutto questo si era già visto non tanto sì certo nei film western ma proprio come tecnologia quali sono i due cardini della grande guerra le mitragliatrici c'erano già la battaglia di Port Arthur l'assedio della guerra russo-giaponese però lì forse un po' di razzismo siccome era una roba di musi gialli nessuno è andato a studiare bene quella guerra c'era quello e c'era soprattutto il filo spinato già a Port Arthur cioè sono la mitragliatrice e il filo spinato che decidono la grande guerra e quindi è una grande scommessa persa della civilissima e razionalissima Europa quella di non aver saputo andare a fare quella guerra preparata a quella guerra ma illudendosi come si vedeva scritto sui vagoni ferroviari di arrivare a Vienna in dicembre per Natale quindi c'era stata questa No ecco anche qua non ho avuto lo spazio perché ho parlato poco no lei mi sollecita una questione interessante uno degli interventismi anche che è stato venduto a lungo sempre secondo una precisa chiave di lettura storiografica era l'interventismo della grande industria cioè l'idea che la grande guerra sia stata voluta dall'industria o dall'economia in generale per regolare per portare a flusso di potenze per l'Italia questo non è vero primo luogo perché ricordavo il fortissimo legame fra l'economia italiana e quella tedesca ricordiamo che l'Italia di carriera guerra la Germania solo nel 16 il tramite per tentare di portarci dalla loro parte sarà von Bülow che era un ambasciatore tedesco sposato con un'italiana cioè il legame con l'economia tedesca è fortissimo c'è nel mondo dell'industria dell'economia la prospettiva come ho detto alla fine illusoria che si sarebbe potuto guadagnare molto con la neutralità e i nove mesi di neutralità sono un periodo in cui l'Italia guadagna moltissimo perché è l'unica nazione europea non coinvolta nel conflitto però ecco l'idea naturalmente ai fratelli Perrone dell'Ansaldo all'industria pesante avrà fatto molto comodo costruire un po' di cannoni e di navi però che in generale il padronato abbia scelto di portare l'Italia in guerra come valvola di sfogo per tensioni sociali e come regolatore di tensioni sociali agli occhi della stereografia di recente più recente non sta assolutamente in piedi perché appunto le scelte sono state fatte purtroppo per fortuna per fortuna perché sarebbe squalido fare una guerra solo per i soldi o per l'esoccupazione per fortuna in questo purtroppo perché comunque sono state scelte calate dall'alto sono scelte che vedevano l'onore del re messo di mezzo infatti quando Giolitti torna a Roma trova i biglietti da visita di tutti i giolittiani anche qua è interessante ho descritto fino adesso una classe politica giolittiana che era considerata sterco dall'Italia erano considerati dei corrotti degli intrallazioni dei vecchi barbogi in Marsina non interessavano nessuno questa classe politica quando Giolitti va a Roma perché si minaccia una crisi di governo Salandra dice beh ho impegnato l'onore di Italia è mio ed è re se non si va in guerra io mi dimetto Giolitti va a tastare il polso famosa frase si può ricavare parecchio parecchio cos'era il Trentino forse italiano cioè non il confine geografico e Trieste città libera non ce li avrebbero mai dati se vincevano la guerra comunque quando trova questi biglietti da visita e vede che c'è una maggioranza parlamentare va a parlare con il re ma quando va a parlare con il re che cosa capisce da quel colloquio che una nazione che si è sganciata legalmente legalmente dalla triplice intesa cioè senza tradire nessuno ma che comunque era un'alleanza trentennale quindi al di là delle carte sapeva un pochettino di pugnalata alla schiena questa scelta che si era impegnata con la firma e con il nome del re in un patto segreto per intervenire a fianco d'Inghilterra e di Francia non poteva mettere in gioco un'ulteriore rinuncia ai propri impegni cioè Giolitti ha capito che lì c'era di mezzo l'onore del re e lui da vecchio liberale sabaudo di fronte a questo ha detto non faccio più niente però quelli col biglietto da visita forse qua confermiamo lo scarso profilo di questa classe politica giolittiana quando c'è la riunione del Parlamento riaperto finalmente che deve votare l'entrata in guerra la votano tutti porco cane cioè andiamo se ci abbiamo Giolitti di fronte che fa la nostra testa da riete ma quando si tratta di essere dei parlamentari maturi che dicono no la guerra non la vogliamo niente l'onore dell'Italia la patria il re si va in guerra e votano tutti è per quello che dico che non c'è stato un colpo di Stato un colpo di Stato si fa a Parlamento chiuso e senza rendere conto a nessuno ma lì come si è votato che Rubi era la nipote di Mubarak lì si è votato che si era a favore della guerra erano improvvisamente tutti per la guerra ecco per cui ecco esattamente se ci sono prego se ci sono altre questioni se no vi saluto e vi ringrazio molto grazie grazie